Ciao a tutti ragazzi, qui è Mac3 Eccoci qui su un nuovo gameplay più Info sul mio canale Sto usando il microfono di merda Ecco perchè si Che figura di merda Ho sentito questo fruscio, io non lo sento perchè ora sto registrando E niente, per questa piccola puntata vi dovete adattare Però cercherò in meglio dopo nel rendering di migliorare l'audio Comunque Iniziamo subito questo gameplay più delle info sul canale Allora le info sono poche Però abbastanza come dire che fanno effetto sul canale Perchè allora la prima è che in questi giorni non ho avuto internet E non avevo il microfono E quindi non riuscivo proprio a registrare E potevo fare anche qualche gameplay E dopo l'ho ricavo Ma non avevo il microfono E poi Seconda cosa Mi sta arrivando un microfono che ho ordinato sui bi Della Trust Link in descrizione Tra pochi giorni mi arriva verso il 27-28 Oppure 28-29 agosto Oggi è 24 Quindi tra circa 5 giorni Io ce l'ho già Ma comunque avevo letto che dopo 3 giorni E' effettuato il pagamento Mi arriva Ma comunque questo è un nuovo gioco Si chiama Shutdown Gun Quindi le info sono finite per ora Ora iniziamo il gameplay Intanto c'è qualcuno che mi chatta su Facebook Questo è un free to play Browser game Perché si può scaricare ma anche giocare online Tramite Facebook Iniziamo a giocare Allora andiamo su Game Abbiamo il double XP Andiamo su Deathmatch Lollo E questo qua il gioco si chiama Shutdown Gun Dead Zone Ve l'ho detto già Ma comunque volevo registrare tramite il download Con Razor Game Booster Però non sono riuscito A farlo partire Ma comunque Andiamo subito Come vedete la grafica è molto bella Molto dettagliata Muori Muori Ok Ok Muori Ecco Eh siamo 2-1 Non sono Tanto Cioè sono nuovo in questo gioco E non sono molto bravo Ma comunque Cioè come vedete è semplice Ecco Tutti a dire Sai fare i skill solo così Vabbè è un modo molto buono per farle Perché quindi non utilizzarlo Oddio Oddio Attenzione Muori 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 Che cacchio ha buttato la bomba Che cacchio ha buttato la bomba Vaffanbaccia Lasciate stare a quello che ho detto C'è un casino della madonna Fammi passare il volume Ok Oh loro La 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 Oh Muori Muori Schiavo Vieni qui Non ho niente contro gli schiavi Era solo un modo di dire La capriola E la capriola E la capriola La capriola Capriola Io no La capriola La capriola E' molto bello Come vedete il gameplay Tutto Le armi Molto semplici Da superare i livelli Non ci sono problemi Delle armi Permanenti O così Come altri giochi Sapete di cosa sto parlando Vabbè Ora è un po' diverso E Dai Ok Come vedete abbiamo la protezione Dal respawn Dallo spawn Come vedete Si sta ancora creando il Cioè non ora Boh No Ma dai Non si fa casè Maledetti Cazzeggio time Scusate Vedete Vedete il personaggio All'inizio E' così invisibile Poi fa Come se si ricrea No La pelle E quello là E' la protezione Dallo spawn Scusate Fatto headshot Si Yeah Boom Headshot Baby Bitch Ora siamo a 21 iscritti Quindi ci vuole un pezzo di canzoncina Grazie a tutti Con il cuore a tutti quanti A chi mi vuole bene Ecco E' finita la canzoncina I geni moranti Viva lui Ah comunque per montare i video Ci metto Due tre giorni Perché No due tre giorni Ci metto Un giorno E mezzo Perché Metto tutte le cose Poi io sono lento Sono pigro Me la prendo con comodo Testata E muore Muore Con R Si ricarica l'arma Sono 11-7 Buon punteggio La prima partita che ho fatto su questo gioco E' stata E' finita 6-2 Quindi pensate un po' Oh eccolo No E' peccato Ho visto che il mio canale sta diventando sempre un po' più Ehm Cioè però Chiaramente lentamente Sempre un po' più famoso Come dire Più conosciuto Cioè nel senso che Gli iscritti aumentano Però Questo Cioè aumentano lentamente Quindi Non Non mi piace Chiaramente Questa cosa Però L'accetto comunque Anche perché Ho solo 21 video 21 video e 21 subscribe 21 porta fortuna Ecco Sono arrivato Terzo posto L'applauso Se voi non Credo che l'avete sentito E va bene Ora vediamo le ricompense Sono arrivato terzo Con 13-10 Good game Questo qua è con l'account premium Però io non ce l'ho l'account premium Quindi queste sono le mie Possibili ricompense Se ho l'account premium Però Le ricompense mie che ho avuto ora Sono quelle di sopra Total Without premium Non senza il premium Bisogno 3136p E 1568 Money Monete Come vedete Questa è l'interfaccia Grazie Vaffanculo Ehm Queste qua sono le cose Ehm Il casino Qui si fanno girare Le 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 cose La slot machine In vita I gold I gold Sarebbero loro E con loro Potete Comprarvi Belle cose E niente Queste qua C'è Sono due modalità Due modalità Scusate Deathmatch E zone control Zone control Sapete cos'è Il controllo di una zona Quindi stanno tanti Waypoint Come dire Dove bisogna conquistarli Ehm Sarebbe Un Tipo Team Ragazzi E' a team Un Tipo Giocatori In una squadra Giocatori in un'altra Mi sto imbrogliando Pure io Ehm Il deathmatch Vabbè Tutti contro tutti Qui si può giocare Anche con gli amici Io ho questo amico Klein Vabbè Ehm Compra oro Invita amici Opzioni Sella Grafica Potete mettere Anche Aig Perché si vede E anche Non è potente Questo gioco Si può Giocare Ehm Si può giocare Facilmente Questo è lo shop Per quelli Gold E queste rese Che sarebbero Una shop Per le monete Ecco qui Ci sono Ehm Questi Generi Di armi Assalto Ehm Energia Un po' Vabbè Comunque Io voglio comprare Quest'arma Qui Vabbè Appena arrivano 9000 Me la compro Ehm Qui si Io ho Queste 4 armi Questa È stata La più Che mi ha fatto Fare kill Qui c'è Game Vabbè Ci sono le statistiche Ecco qui E quindi Allora Le info le ho dette Il gameplay è stato fatto Il video è finito Bella a tutti ragazzi Ci vediamo Nel prossimo video Che Vi prometto Sarà sull'Fported 2 Con il mio nuovo microfono Ehm 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 Con le cuffie Ehm Oh Finito Si Ciao ciao